Armanda, lei ha lavorato in questa azienda 20 anni, ora da un anno però non è più assunta, non è più parte delle maestranze operaie, però è qui per manifestare anche lei insieme alle ex colleghe. Sì, innanzitutto buongiorno e ringrazio tutti i miei colleghi che mi appoggiano. Io mi sono operata un anno fa circa e tuttora sono fuori, dopo 20 anni di lavoro in questa azienda, adesso sono fuori perché con una malattia professionale riconosciuta sia dal dottore Zindale e dalla ASL, adesso io sono fuori. Praticamente mi hanno dato in idonea permanentemente, quindi io tuttora sono a casa senza stipendio, quindi alla mia età io mi chiedo come dovrei fare. Questa malattia lei l'ha sviluppata praticamente lavorando in questa azienda da tanto tempo? Sì, mi è stata riconosciuta la Lina, io per Lina dovevo rientrare il 4 novembre del 2017, però non so adesso come va a finire la mia storia, tutto qua, questa è la situazione. Una volta scavuto il contratto non hanno avuto nessun tipo di ammortizzatore sociale, nessun tipo di tutela da questo punto di vista? No, no, con il contratto che abbiamo noi praticamente la scopzione è quella stagionale, il resto mobilità non esiste con i nostri contratti che abbiamo noi, con il contratto agricolo. La sua storia potrebbe essere anche la storia di tutte le altre? Sì, sì, con i miei colleghi e di tutte queste malattie personali che ci sono in questa azienda. Ecco, che cosa si sente di chiedere anche lei in questa giornata? Io, innanzitutto, ho portato la solidarietà a tutte le mie colleghe e spero che loro mi appoggino in questa mia situazione che sicuramente è sì, brava, brava, ecco. Si può ripercuotere anche su di voi, giustamente, perché dopo 20 anni l'azienda, un operario che ha dato il 100%, che allora non c'era neanche la prevenzione che c'è adesso, quindi si è ammalata con dei ritmi che non erano indifferenti, quindi non vogliamo che adesso ci ritroveremo anche noi, che un domani non stiamo bene e l'azienda ti dice ciao. Quindi mi sembra giusto che la faccia ritornare insieme a noi, che la convoca in qualche modo, in qualche posto, insomma. L'azione di oggi, insomma, serve anche ad evitare situazioni tipo questa che abbiamo appena raccontato. Non dimenticarsi adesso quando uno si è ammalato. Devono ricordare quello che lei ha dato prima per far crescere questa azienda insieme a noi. Mi sembra giusto.